Noi dichiariamo ufficialmente aperto Bussarsizio, anno europeo dello sport 2023! Si inaugura ufficialmente così, con il via dato dalla squadra della Giunta e del Consiglio Comunale, l'anno dello sport a Bussarsizio. Oltre 2.000 le persone accorse all'Ework Arena per la manifestazione, in cui hanno sfilato più di 40 società sportive bustesi, a partire dall'ASSSB che le riunisce e dal Panathlon, per un totale di circa 650 atleti riuniti sul campo. Una cerimonia spettacolo, come voluto dall'assessore allo sport Maurizio Artusa, che, nella staffetta organizzativa dell'annata, ha preso in corso il testimone dal suo predecessore, l'attuale presidente del Consiglio Comunale, Laura Rogora. Nel palazzetto di Viale Gabardi si sono così alternati non soltanto gli interventi istituzionali delle numerose autorità, che hanno voluto manifestare il proprio sostegno all'iniziativa, a partire dal ministro Andrea Bodi, che ha mandato un messaggio, e dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ma anche le premiazioni a una dozzina di realtà associative e di campioni di oggi e di ieri, capitanati dal padrino, lo storico record man d'apnea Umberto Pellizzari. Il tutto arricchito dalle coreografiche esibizioni di ginnaste, ballerine e freestyler, fino al ballo di gruppo con gli occhiali da sole, con il flash mob finale, capitanato dal sindaco Emanuele Antonelli. Grazie Busto!